Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi recensione della storia plenilugno contenuta nel Zagor Zenit numero 585, 586 e 587. Copertine come sempre ad opera del gran maestro Gagliano Ferri, che potete vedere, adesso vi faccio vedere. Molto spettrali, molto horrorifiche nell'ambientazione. Guardate questa che fantastica che è con appunto l'uomo lupo, perché qui si parlerà di uomini lupo. E l'ultima appunto dove c'è Zagor con questi lupi, quindi delle copertine sempre ad altissimo livello sulla testata di Zagor e soprattutto questi titoli che mi fanno impazzire. Sono veramente titolista di Zagor e lo adoro con tutto me stesso. Soggetto e sceneggiatura di questa storia di Moreno Buratini, disegni di Gioe Vito Nuccio. Se seguite le mie recensioni su questo canale sapete che Gioe Vito Nuccio, insieme a Claudio Villa e a Paolo Martinello, fa parte del trio dei disegnatori realistici che io amo di più in Bonelli, quindi qui siamo a Cardiopalma. Però vi do un'anticipazione, in questa storia Nuccio non mi ha fatto impazzire come nella storia che recensirò prossimamente lo zoo di Kaufman. Lì proprio siamo a dei livelli pazzeschi, però anche qui i disegni promossi in pieno ragazzi. Allora, cosa ci dice il nostro caro Moreno Burattini? Allora qui vi ho fatto recentemente la recensione della storia dell'Uomo Lupo, numeri 99-100 Zenith di Zagor. Allora, qui non si parla di Uomo Lupo come in quella storia là dove c'era un Uomo Lupo, ma qui si parla più che altro di Licantropia. Allora, ora vi dico che cosa ci ho visto io in questa storia. Non so se voi siete appassionati di film horror, io sono un appassionato di film horror. Non so se avete letto e se leggete i libri di Stephen King, io leggo i libri di Stephen King. Avete letto Ultimo Indizio La Luna Piena di Stephen King? Non so neanche se lo risnappino, è un libro degli anni Ottanta di Stephen King. Ecco, questa storia di Zagor mi ha ricordato incredibilmente Ultimo Indizio La Luna Piena, mischiato a l'ululato di Giodante, filmaccione che spero che voi abbiate visto, perché adesso vi dico la trama. Allora, Zagor e Cico vengono chiamati in un villaggio da un dottore loro amico, non mi chiedete il nome perché c'è un nome impronunciabile, è un casino. Questo dottore era quello che praticamente ha aiutato i nostri eroi nella storia Ritorno del Vampiro, anche quella, cari, se seguite il mio canale la trovate nel mio canale che l'ho già fatta. Questo dottore, tramite un suo amico che abita in questo paesino, chiama Zagor e Cico, perché in questo paesino stanno avvenendo degli omicidi per mano di un licantropo. Il suo amico studioso che abita in questo villaggio che studia il fenomeno della licantropia, gli ha detto se per piacere trova qualcuno che gli dà una mano a indagare su questi morti. Ecco qua il nostro amicone dottore, eccolo qui, vedete quello del Ritorno del Vampiro, eccolo qua, scusate ma non mette a fuoco la telecamera bene, eccolo qui. Chiama appunto Zagor e Cico per andare da questo suo amico studioso di licantropia in questo villaggio perché un licantropo sta sgranando alla gente. Quindi Zagor e Cico vanno in questo villaggio e perché chiamare Zagor e Cico? Perché se voi vi ricordate sempre quella storia del Ritorno del Vampiro, per capirsi, non era quello il titolo, non me lo ricordo, comunque nel Ritorno del Vampiro, a un certo punto Cico aveva fatto con l'ipnosi, aveva preso un pendaglietto, aveva messo il pendaglietto sulla cartina ed era riuscito a trovare bella Racosi, vi ricordate? Qui vogliono far fare a Cico la stessa cosa, lo vogliono ipnotizzare, vogliono dargli il pendaglietto in mano e fargli dire dov'è il licantropo, però non ci riescono. Quindi tutta questa storia alla fine andrà avanti nella ricerca appunto di questo famigerato licantropo. I primi sospetti in questo villaggio sono questi tre gemelli qui, sono tre falegnami, tre boscaioli gemelli, perché il licantropo una notte attaccherà, Zagor lo ferirà e uno di questi tre gemelli avrà dei segni appunto molto simili a quelli del licantropo. Ci sarà un classico giallo, appunto un classico diciamo alla ricerca dell'assassino, alla ricerca del mostro e appunto se avete letto l'ultimo indizio della luna piena di Stephen King vi aiuta perché praticamente la trama è molto simile, quindi in un villaggio c'è appunto questi mostri e Zagor dovrà scoprire il mistero. Questo qui è l'amico appunto che ha chiamato il dottore, è appunto amico di Zagor che ha bisogno di aiuto, quello che studia i licantropi, quindi ci saranno molte scene legate appunto a questo licantropo, ecco qui si richiama la scena che vi ho detto prima, vedete con bella Racosi, ricordate che c'era Cico ipnotizzato che col pendaglieto lì diceva dove era il conte e quindi ci saranno appunto questo uomo lupo che andrà in giro ad uccidere la gente, eccolo qua, guardatelo qui, vedete che andrà in giro ad uccidere della gente, ci sarà un'indagine e si scoprirà che è colpevole, ma non è tutto qui ragazzi perché ci sarà dietro qualcosa di più, Moreno Burattini tira fuori l'asso nella manica e andando avanti con la storia si scoprirà che in realtà non è uno solo licantropo, ma che è stato fatto un esperimento, un esperimento molto particolare, che questi licantropi non erano semplicemente dei licantropetti così che venivano fuori a caso, morsi da un altro licantropo e quindi a loro volta trasformati, ma era tutta una cosa studiata, quindi una storia che parte classica e che poi alla fine ci riserverà moltissime sorprese, quindi una storia che vi consiglio di leggere, non vi voglio spoilerare, ci sarà dietro un mistero molto bello, appunto è molto bella la trovata di Burattini appunto di risolvere la trama, di spiegare perché questi licantropi esistono, come sono stati fatti e intanto non è uno ma sono tanti, quindi poi ci saranno dei bellissimi colpi di scena e vi consiglio di leggerla, è una storia che mi è piaciuta tantissimo, mi è piaciuta tantissimo anche perché come vi ho detto Giove Vito Nuccio, allora guardate questa scena qui con questo licantropo qui, guardate le scene di lotta, le ambientazioni ricreate da Nuccio sono qualcosa di incredibile, il mostro è fatto con un realismo pazzesco, il viso di Zagor è fatto con un realismo pazzesco, un disegnatore della Madonna Giove Vito Nuccio, ha fatto soltanto due storie finora questa Kaufman, che sappia io dopo se ce ne sono altre come sempre ditemelo qua sotto nei commenti, quindi una storia veramente bella, un bel giallo perché Zagor dovrà capire chi sono appunto questi licantropi, lo svelamento del mistero, del perché per cosa per come è un qualcosa di elevatissimo, quindi molto bello, molto ben fatto, una sceneggiatura molto ben distesa da Moreno Buratini, che come vi ho già detto è per me l'erede di Guido Nolita a tutti gli effetti, sia per come caratterizza Cico, sia per le trame che fa, anzi bestemmia per tanti, ma secondo me è quasi meglio di Guido Nolita, quindi se Moreno Buratini mi segue, sappia che per me, a me piace quasi di più di Guido Nolita, scusate Zagoriani, sono gusti personali, odiatemi pure, se volete scrivetemelo sempre nei commenti. quindi un ottimo giallo, un'ottima risoluzione dei problemi, un ottimo horror, un disegnatore pazzesco, Gioe Vito Nuccio, delle atmosfere horror bellissime, è molto diverso dall'uomo lupo perché non si rifà all'uomo lupo della Emmer, ma si rifà bensì alla leggenda e all'alicantropia di per sé come malattia, quindi può essere anche preso come un sequel della storia dell'uomo lupo, però è una variazione sul tema molto particolare, qui si parla più che altro del germe dell'alicantropia, quindi non è proprio l'uomo lupo 2. Comunque è una storia molto bella. Anche voi, se lo avete letta, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia del ritorno dell'uomo lupo, diciamo, di questa storia sui lupi mannari di Zagor, scrivetemelo sempre qua sotto nei commenti. Per voi Zagoriani, con i vostri commenti mi state aiutando tantissimo, grazie su cosa recensirvi, su cosa darvi. Io con Zagor ho già un pacco di recensioni pronto da fare, un pacco di Zagor da leggere e tante cose sul vostro personaggio preferito da dirvi, quindi vi ringrazio ragazzi perché con Zagor mi avete aiutato tanto a scegliere gli albi e a farvi contenti, quindi grazie ragazzi, grazie iscritti. Lasciatemi i vostri commenti su questa storia, lasciatemi i vostri commenti su Moreno Burattini, su Zagor, su Zagor di una volta, sullo Zagor di ora, sulle storie che preferite. Continuatemi a consigliarmi storie che tanto io ve le farò tutte quante, perché il mio obiettivo è quello di recensire tutti gli albi che io ho a casa, quindi questo canale avrà almeno altri 15 anni di vita. Ditemi cosa ne pensate anche voi di Nuccio. Se avete degli amici che amano Zagor, fategli guardare questo canale, fategli iscrivere se ci riuscite, così diventeremo sempre di più e ci saranno sempre più pareri sul nostro eroe preferito, iscrivetevi al mio canale anche se amate altri eroi, bonelli e non, che tanto io faccio anche quelli, di recensioni, condividete questo video con chi volete e più che potete e noi ci rivediamo alla prossima recensione. Ciao ragazzi!